Sono arrivati due pattuglie dei carabinieri e hanno detto tutti fuori, tutti fuori, tanta paura perché se c'era una bomba adesso posso parlare più tranquillamente perché fino ad adesso non è successo niente, però al momento che era sotto lì al palazzo dell'amorizzazione lì c'è stato un panico per tutti. Momenti di panico questa mattina nella sede della motorizzazione civile di Como in via Tentorio a Camerlata per un allarme bomba, poi scopertosi falso, tutto è partito da una chiamata anonima arrivata poco dopo le 10 ai carabinieri, subito è scattato l'allarme con un'ingente mobilitazione di mezzi e uomini sul posto, sono infatti arrivati i carabinieri, polizia, vigili del fuoco, ambulanza e tecnici dell'Enel. L'attività della motorizzazione è stata dunque sospesa e l'edificio è stato immediatamente evacuato per mettere in sicurezza i dipendenti. I carabinieri hanno dapprima effettuato un'ispezione al secondo piano dell'edificio dove era stata segnalata la presenza dell'ordigno, poi sono arrivati gli artificieri da Milano e il nucleo cinofilo di Casate Novo. Dopo le verifiche effettuate sia all'esterno che all'interno dell'edificio il pericolo è stato scongiurato, nessuna bomba è stata infatti trovata nello stabile, i dipendenti sono così rientrati e l'attività è ripresa.